Dal 1939 avviene questo dono dell'olio che serve per alimentare la lampada che arde davanti a San Francesco, è la lampada dei comuni d'Italia e rappresenta in qualche modo l'unità di questo paese e chi meglio rappresentasse l'unità di questo paese se non il presidente Mattarella che abbiamo invitato sarà lui ad accendere la lampada dei comuni d'Italia. Io lo ringrazio davvero di cuore perché mi sembra il momento opportuno perché l'Italia venga rappresentata nella sua unità. Stiamo vivendo momenti molto difficili momenti difficili anche a livello economico, lo sappiamo, per tante questioni, anche a livello politico ci saranno le elezioni fra poco, non ci sarà quasi sicuramente un nuovo governo ancora il 4 ottobre di solito viene un rappresentante del governo a tenere anche un discorso alla nazione dopo la celebrazione e sarà invece il presidente Mattarella che ripeto ringrazio tantissimo a tenere questo discorso a rivolgere la sua parola a tutti gli italiani. Questo dopo la celebrazione. La celebrazione appunto sarà presieduta dal cardinale Zuppi, anche lui, lo ringrazio davvero di cuore con grande simpatia, con grande amicizia e l'idea è nata lo scorso anno, non so se sapete ma ogni anno viene annunciato chi, quale sarà la regione che consegnerà e accenderà l'olio la lampada abbiamo pensato di interrompere solo una tantum questo percorso, eravamo nel pieno della pandemia lo scorso anno e abbiamo annunciato appunto che avremmo invitato tutti coloro che in modi diversi hanno fatto fronte a questa pandemia, sia per ringraziarli, sia perché con loro si possa ringraziare l'intercessione di Francesco, si possa ringraziare il Signore per quanto siamo riusciti a fare e nello stesso tempo si possa invocare ancora Francesco e attraverso di lui il Signore perché doni speranza, doni pace, doni serenità al popolo italiano. Ci troviamo, ripeto, l'ha detto bene il Cardinale Zuppi, in una situazione nuova quando Papa Francesco parla di un cambiamento d'epoca, in fondo noi in Italia siamo dentro questi cambiamenti grandi, siamo dentro forse con tante polarizzazioni, con tante tensioni, ecco diventerà davvero un momento in cui oltre a ringraziare tutti coloro che hanno fatto fronte alla pandemia sarà anche il momento in cui rinnovare la nostra richiesta al Signore per il nostro popolo, per il nostro paese la richiesta di protezione, per ascoltare la parola autorevole appunto del Presidente della Repubblica e per unirci, unirci, ecco a me sembra così importante questo fatto dell'abbandonare tutte le polarizzazioni le convinzioni personali, partitiche, dentro la società eccetera per dire ecco mettiamo un punto fermo e ripartiamo ripartiamo chiedendo davvero, ecco con una prighiera speciale per l'Italia la protezione del Signore ovviamente a livello di calendario si ripeteranno un po' quelli che sono i gesti soliti ovvero il corteo che partirà dal Comune di Assisi giungerà alla Basilica dove alle ore 10 verrà celebrata la Solenne Eucharistia durante la quale ci sarà appunto questo gesto dell'offerta dell'olio e dell'accensione della lampada a conclusione la preghiera per l'Italia la speciale preghiera per l'Italia e poi il discorso dalla loggia del Sacro Convento da parte del Presidente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti